cascina burattana busto arsizio o meglio quello che ne rimane la situazione qui è abbastanza precaria come vedete il tetto non è nelle migliori condizioni ci sono le reti che sono state collocate dal comune per chiudere ogni accesso ma ogni tanto si segnara ancora la presenza di qualche abusivo e la presenza di lattine nel cortile e di piatti di plastica fa pensare che comunque qualcuno ogni tanto ci faccia un salto la situazione è davvero precaria dopo gli incendi e i crolli ma si notano dei brandelli di sacchetti di plastica e tutto sembra davvero nel più triste degrado e comunque dalla da una delle delle finestre vedete anche delle delle lattine nei rovi dalla finestra più vicina alla strada si vede che all'interno ci sono parecchie lattine bottiglie segno che forse qualcuno qua dentro ogni tanto un salto ce lo fa nonostante le reti nonostante perché questa situazione è davvero da davvero abbandono e pensare anche un recupero sarebbe decisamente oneroso